buongiorno oggi c'è il sole e io sto andando a prendere casperigno oggi vi faccio un video un po così cosa combina sono stata all'ora a dormire con gli altri due cagnoni adesso c'è ancora la faccia stropicciata perché appena aperto gli occhi ho preso come le 4 adesso sto andando a prendere l'altro vittellone ho tirato fuori i miei è l'ora di giocare come vedete oggi qua il sole e cielo blu c'è anche nonno muccio c'è un po' l'amico perché si è un po' l'amico perché non la vuoi dai io sono un po' l'amico eh ma per ora sono un vacanze c'è un po' l'amico c'è un po' l'amico dai dai mi faccio vedere l'altro vittello adesso casper non so se lo vedete io c'è il sole contro non vedo un'abbiata casper vittà da cani vittà da cagnacci dove vai dove vai che rompivalle ma lì sono delle rompivalle comunque questo è quello che circonda a casa mia in versione appena imbiancata neanche invernale questo è niente fa ridere sta neve adesso facciamo giocare un po' loro anzi magari ce ne andiamo dall'altra parte della torre così loro stanno un po' il sole dai oggi vi faccio un video così a te cazzo proprio senza senso perché oggi mi giro qui vieni qua casper ehi madonna buttami per terra dai vai a giocare qui siamo stato a casa mia qua è il mio balcone e questo è il prato dove giocano i cani e questo è il vitello che gioca stai giù scusate le riprese pessime ma non ho messo la doppia fotocamera questi e questi e dov'è la cozza qua vai a giocare vai fila vai nella neva che te è una roba bella oh mi tocca camminare eh quanto è che far così oggi per fortuna aia qua un gomma mi fai male c'è un sole che spaga le vietre se faccio fare la vostra panoramica sarò in grado non lo so proviamo se di là c'è il sole contro non so cosa vedrete non vedo niente neanche io comunque io sono circondata da tutto ciò adesso qua i due alberi vedete più niente aspetta poi c'è anche da quest'altra parte sei in mezzo ai monti come hai lì ecco il pistolo ha trovato il pallone adesso ci diamo secco col pallone cinque minuti perché poi mi si congelano già i piedi e andiamo a casa dobbiamo fare colazione c'è ancora tutta la faccia stropicciata dal cuscino dov'è la palla Casper prendi la palla questo sole non è il massimo per i miei occhietti però vabbè oggi un video è un po' così un video è un mato porta non c'è voglia porta se no andiamo a fare il nenne non so se riesco a farvelo vedere cosa fai? cosa fai Casper? fai la palla eh? oh mi hai? ti amo? no cosa vuoi fare? vabbè dei saluti devo vado ai can ciao buona giornata anche a voi ciao